Nel capitolo 1131 di One Piece vediamo Rufy interagire con Loki. Il loro incontro è davvero molto interessante. Finalmente dopo due settimane torniamo a commentare One Piece. Quindi parliamone subito. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per questo nuovo video. Vi informiamo che il nuovo Funko Pop che ritrae la pos iconica di Rufy in Gear 5, ragazzi, sta arrivando nel nostro magazzino. Da lunedì inizieremo a spedire tutti i pre-order. E per tutti coloro che ancora non l'hanno acquistato abbiamo ancora diverse copie disponibili in pronta consegna. Quindi potete approfittarne. E vi ricordiamo che il prezzo del prodotto include anche le spese di spedizione. Ma adesso cominciamo a parlare del capitolo 1131. Siamo finalmente arrivati a Elbaf. Dopo una serie di capitoli più leggeri in cui i Mugiwara hanno affrontato Rod, uno dei membri dei nuovi Pirati Giganti, è giunto il momento di addentrarci nei veri temi importanti, non quelli succosi, che questa nuova saga ci presenterà. Primo tra tutti, e lo vediamo in questo capitolo, è l'incontro con Loki. Poi, sempre all'interno di questo capitolo, scopriamo che c'è una questione relativa a Shanks. Viene trattato anche il legame tra Airudin e i Mugiwara. E infine, si parla dell'incontro, presumibilmente imminente, tra Robin e Sauro. Per quanto riguarda l'incontro tra Rufy e Loki, assistiamo a una scena davvero intrigante. Loki è un personaggio ambiguo. È un villain? Si affermerà come tale? O si presenterà come un alleato? In questo capitolo vediamo Rufy dialogare con Loki, mentre è sdraiato addirittura su una delle sue gambe. Se dovesse trattarsi effettivamente di un villain, È la prima volta che assistiamo così immediatamente ad un incontro con un antagonista. E mai prima d'ora, Rufy ha dimostrato tanta serenità nel parlare con qualcuno dall'indole malvagia. Quindi la vera domanda è, Loki all'interno della saga di Elbaf, come verrà trattato? Loki è una delle figure più complesse e ingannevoli della mitologia norrena. Nonostante sia spesso associata agli dei di Asgard, come Odino e Thor, Loki non è del tutto un dio nel senso tradizionale, ma uno Jotun, un gigante. In alcune versioni della mitologia è descritto come il fratello di sangue di Odino. Questo legame ambiguo con gli dei rende Loki una figura imprevedibile, famoso per il suo inganno e la sua astuzia, qualità che usa per seminare caos e creare situazioni pericolose per gli dei, pur rimanendo impunito fino alla sua caduta definitiva. Loki rappresenta l'equilibrio tra ordine e caos. Parte della cerchia divina aiuta spesso gli dei con la sua astuzia, ma il suo comportamento destabilizzante può minacciare l'ordine stesso del cosmo. In molte storie Loki provoca problemi che poi riesce a risolvere, ma alla fine la sua natura distruttiva lo porta a tradire gli dei. Come nella mitologia norrena, anche questo Loki sembra offrire a Rufy un patto apparentemente vantaggioso. Promette di distruggere qualsiasi ciurma pirata che Rufy desideri, il che sembra allettante. Tuttavia, come nella mitologia, il patto potrebbe nascondere una trappola, con Loki che potrebbe avere intenzioni oscure. Forse vuole ottenere la propria libertà per scatenare il caos su Elbaf e oltre, o usare Rufy come pedina per destabilizzare le forze in gioco. Nel capitolo notiamo che a un certo punto Loki pensa tra sé che se fosse libero eliminerebbe proprio Rufy. Questo ci fa capire che Loki è davvero un personaggio mischino, un personaggio ingannevole. Ma sarà davvero così? Si nivelerà davvero un villain? D'altronde nel capitolo 1130 ha detto presentandosi che sarà colui che porterà la fine di questo mondo. Quindi un piano suo in testa, questo personaggio ce l'ha. Sicuramente, proprio come il Loki della mitologia norrena, è un personaggio di cui non ci si può fidare. Loki è senza dubbio una grande minaccia. Proporre di eliminare una qualsiasi ciurma scelta di Rufy potrebbe essere un bleffo, oppure potrebbe essere una dimostrazione del suo potere e della sua pericolosità. Con una taglia di 2 miliardi e 600 milioni, Loki sembra essere incredibilmente forte. Se ha una taglia del genere, un po' di forza questo personaggio deve averla davvero. E poi c'è quella storia del frutto del diavolo leggendario, per cui qualcosa la nasconde. Inoltre, come molti di voi ci avete scritto nei commenti, la taglia di Loki è una taglia speciale congelata da 6 anni. Quindi già 6 anni fa, nel panorama mondiale dei ricercati, Loki possedeva una taglia di questa portata, 2 miliardi e 600 milioni di berri. Una taglia immensa. Un altro interessante collegamento è che Shanks è stato nominato imperatore proprio 6 anni fa. In questo capitolo si parla del rosso, e vogliamo capire se ci sono dei collegamenti. L'incontro con Dory e Brogy avvenne prima che il rosso venisse proclamato imperatore, ed è avvenuto sul Little Garden. Ovviamente i due giganti non erano nemmeno a conoscenza dell'esistenza di Loki, dato che sono rimasti a combattere al Little Garden per più di 100 anni. È probabile però che il rosso abbia voluto andare a Elbaf dopo aver ascoltato i racconti dei due giganti sul loro paese. E magari durante la visita si sia imbattuto proprio il Loki. Il rosso ha il cospetto di un personaggio dalla taglia di 2 miliardi e 600 milioni di berri. Nella mitologia Loki manipola spesso le emozioni e le lealtà degli altri, provocando conflitti tra dei e giganti. Qui provoca Rufy definendo Shanks un codardo, e lo fa per spingerlo a reagire impulsivamente. Se Loki possiede informazioni cruciali su Shanks, e usa questo legame per provocare Rufy. Potrebbe manipolarlo sfruttando la sua lealtà verso Shanks. L'abbiamo vista ora la reazione di impulso che ha avuto Rufy attaccando Loki in Gear Fort. E quindi questo aspetto è decisamente importante. Se Rufy dovesse cedere e liberare così Loki, il gigante potrebbe rivelare il suo vero potere e la sua natura minacciosa, dettato anche da questo frutto leggendario che possiede. Riuscirà Rufy a resistere agli inganni di Loki? È interessante in questo capitolo vedere Airodin prepararsi ad accogliere i Mugiwara, cacciando un alce per dare loro il benvenuto. C'è un netto contrasto tra lui, che non vede l'ora di vederli felici a Elbaf, e Rod, che invece rifiuta di sottomettersi a loro in quanto non sono giganti. Questo ci fa pensare che l'arrivo dei Mugiwara possa portare a una frattura tra i giganti, tra chi la pensa come Airodin e chi come Rod. Tra l'altro questa scena di Airodin ci fa pensare al fatto che è la prima volta, dopo i fatti di Dressrosa, che assistiamo ad uno dei capitani della mega flotta di Cappello di Paglia che incontra nuovamente Rufy, quindi questo sarà veramente un elemento interessante. La scena di Robin, infine, che si taglia i capelli, tornando allo stile pre-time skip, è davvero emozionante. Un ritorno al passato. Robin con la vecchia acconciatura è una visione simbolica, che rappresenta il ritorno alle sue radici, ed è come se volesse trasmetterci l'idea che ci siamo. Robin è pronta a portare a termine la sua missione originaria di scoprire la verità che si studiava a Oara. Sembra quasi che Oda voglia dare a Robin lo spazio che merita, mostrando la ripresa di un rapporto importante dal passato, un rapporto che abbiamo conosciuto e visto fino ad ora soltanto all'interno del flashback. Questo cambio di capigliatura potrebbe far pensare che Robin l'abbia fatto per farsi riconoscere meglio da Sauro, ma potrebbe anche indicare che è pronta a perseguire il suo obiettivo, di scoprire i segreti del secolo vuoto e darci finalmente tutte le risposte che cerchiamo. La bambina demoniaca è pronta a riprendersi la sua rivincita. Oggi Robin si presenterà a Sauro non come una ragazzina solitaria, ma come una donna con amici che la sostengono nel realizzare il suo sogno e sarà un incontro davvero commovente. Alla fine del capitolo però vediamo Sauro collassare, ragazzi che tempismo, un colpo di scena che complica la situazione. Stiamo sicuri che sia solo un espediente narrativo e che l'incontro tra Robin e Sauro avverrà, anche se questo potrebbe richiedere più tempo rispetto a come stava per avvenire così velocemente. E infine possiamo fare un collegamento grazie a questo capitolo. Il capitolo 1130 si conclude con l'introduzione di Elbaf e del Warland, descritto come la terra dei guerrieri di Elbaf, il paese più temuto e da sempre devoto alla guerra. In questo capitolo assistiamo più volte alla straordinaria rappresentazione di Elbaf, dominata da un enorme albero al centro, che lo chi chiama Adam. L'albero Adam è un tipo di albero il cui legno è considerato il più forte e pregiato al mondo. La sua estrema rarità lo rende molto prezioso, tanto da essere considerato un grande tesoro. Sia la Oro Jackson che la Thousand Sunny sono state costruite proprio con il legno di questo albero, soprannominato l'albero tesoro. Questo materiale è noto per la sua incredibile resistenza, capace addirittura di sopportare cannonate, colpi di arma da fuoco e persino il passare del tempo. Loki, nonostante la sua forza straordinaria, non riesce a liberarsi da oltre sei anni, poiché nemmeno un gigante dalla forza sovrumana può danneggiare il legno di quest'albero. Frankie spiegò la storia di quest'albero, un albero unico nel suo genere. Tanto tempo fa, su un'isola devastata da una guerra senza fine, la gente continuò a tornare per ricostruire vicino ad un albero gigante, l'unico rimasto intatto dopo una pioggia di proiettili. Quell'albero era l'albero Adam. Oggi possiamo collegare che quell'isola di quella storia lì è proprio l'isola dei giganti, Elbaf. Quando venne introdotto l'albero della luce del sole, Eve, Usopp notò la connessione tra i loro nomi, ovvero Adam e Eve, Adamo ed Eva, e si chiese se i due alberi fossero imparentati. Vogliamo capirci di più su come il mondo di One Piece è gestito da Ichiro Oda, perché non possiamo non notare i collegamenti albero Adam-Adamo, l'albero Eve-Eva, quindi Adamo ed Eva, e poi abbiamo i frutti, che sono i frutti del diavolo. E quindi la storia di Adamo ed Eva la conosciamo tutti, e quindi quale collegamento vuole fare Ichiro Oda con la Genesi? Lo scopriremo sicuramente con il proseguire dei capitoli. Ma con questo è tutto ragazzi, per qualsiasi vostra idea scriveteci attraverso i commenti che vi leggiamo, e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, seguiteci anche su Instagram, e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Alla prossima!